Gentili telespettatori, buona giornata. Elish Line non vuole usare l'ombrello. Voi direte, ma che vuol dire? Non lo so. Però oggi è il giorno dell'ombrello. Ogni giorno ne spara una. Oggi è quella dell'ombrello. Dice, no grazie, non ne ho bisogno, a me non piace l'ombrello. A me non piace l'ombrello. Io ho conosciuto persone che preferiscono bagnarsi sotto la pioggia perché non l'ho mai capito il perché. Ma lei dice, no grazie, non ho bisogno, a me non piace l'ombrello. Dice la segretaria del PD ieri, il 9 giugno, perché era ospite della Repubblica delle Idee a Bologna. Piove, ma lei se ne sta sotto la pioggia. E quando le viene offerto un ombrello per ripararsi rifiuta senza dire il perché. Poi lo spiega al direttore del quotidiano Maurizio Molinari durante l'intervista. Il giornalista chiede alla Pidina di raccontare qualcosa di sé inedito, no? Come mai chiede qualcosa inedito? Perché oggi lei è il fenomeno politico del momento. Non un fenomeno positivo, ma un fenomeno da baraccone. E allora il giornalista dice, dai raccontaci qualcosa, come dire, dai che troviamo qualcosa per fare l'articolo. Qualcosa di inedito. E poi lei dice, ma così mi spiazza, perché se vuole che racconto qualcosa di inedito mi sta spiazzando, non ero preparata. Poi dice, una cosa che non sapete di me? E il giornalista, sì, non ho un buon rapporto con gli ombrelli. Quindi non c'è questa grande relazione con gli ombrelli. Non uso l'ombrello perché sono figlia adduttiva di questa città. Bologna, che fra le tante bellezze ha i portici. Quindi da bolognese acquisita non ho mai imparato a usare l'ombrello. E dice, questa città mi ha insegnato tantissimo a non essere indifferente, il valore della memoria. Questo ti entra sotto pelle. Attenzione, arriva, eh. Noi siamo e saremo sempre fieramente antifascisti e antifasciste. Al maschile e al femminile perché dirlo solo in un modo non va bene. Bisogna fare le varie distinzioni. Quindi è arrivata sempre allo stesso punto. A parte l'ombrello. Bologna città dei portici, ho capito, ma quando esci dai portici sei l'ombrello, lo apri e stai sotto l'ombrello. Non è una cosa così mostruosa. Non so quali problemi abbia lei con gli ombrelli, però. E poi, la cosa anche più incredibile, è che torna a parlare in un'intervista, dopo poche parole, parla già di antifa. Questo per farvi capire quello che vi dicevo in questi giorni. Nel suo partito le hanno detto basta, basta con sta roba dell'antifa, basta, basta. Perché così non porta da nessuna parte. Guardate, contro Berlusconi dicevano le stesse cose, Berlusconi ha governato tantissimo. Dicevano le stesse cose su Salvini, oggi le dicono su Lameloni e continua ad avere il 30%. Nel suo partito le hanno detto basta continuare con ste robe qui. È una strada perdente, sempliciotta. Però, attenzione, lei non è che fa un errore parlando di queste cose. Dici, l'errore te lo spiegano, tu capisci l'errore e non fai più l'errore. Ma il suo non è un errore. Lei è proprio così. Quindi se tu spieghi a una persona che è fatta in un modo, tu sei fatta in questo modo e non va bene, la persona non può cambiare perché è fatta così. Non sta dicendo, commettendo un errore, ma sta espressandosi com'è. Pertanto lei, tutti i giorni, ripete sempre le stesse cose. Antifa, antifa, antifa. Nel suo partito non sanno più da che parte girarsi. Dice, beh, gliel'abbiamo detto. Molti dicono non capisce. Io rispetto. Non è che non capisce. Lo diceva anche Lameloni ieri. Lei è così. Lei ci crede. Come Saviano e Lamurgia. Se loro ci credono di essere i nuovi partigiani del 2023, ecco, siamo nel 2023? Sì. Lei ci crede. E per quello che andrà avanti per altri quattro anni a dire sempre queste cose qua. A questo punto vedremo come nei sondaggi si svilupperà. Ma poi c'è il voto in Molise. Ne parleremo anche di quello. E poi attacca la Presidente del Consiglio, la vera politica, quindi la finta politica che attacca il vero politico. Lo dico anche a Giorgia Meloni, anche, perché anche a Giorgia Meloni, non anche a Giorgia Meloni, a Giorgia Meloni, che oggi mi attacca dalla masseria di Bruno Vespa. Certo che noi siamo preoccupati, ma lei si preoccupi di dare risposte al Paese più che di me. Il governo non risponde ai cittadini, non ha risposto su Cutro come non ha risposto fitto sul PNRR. Il governo pretende di dire come dobbiamo fare domande e come dobbiamo fare opposizione, ma non ci facciamo dettare l'agenda su questo. Noi dobbiamo costruire un'alternativa. Appunto, noi non ci facciamo dettare l'agenda, ma voi l'agenda non ce l'avete. Noi dobbiamo costruire un'alternativa, ma dobbiamo costruirla. Il governo è su da 8-9 mesi e voi ancora dovete costruire un'agenda. Un'agenda si ha sempre. Un leader politico non è che costruisce un'agenda, la sua agenda ce l'ha già. Le cose che uno vuole fare nel Paese non è che le comincia a pensare quando va all'opposizione. Un vero politico, quello che vorrebbe per l'Italia, lo sa da sempre, lo sa da quando comincia a far politica, da quando si comincia a far politica che uno comincia a pensare a che cosa vorrebbe nel Paese. Non che dopo 8-9 mesi di governo Meloni dobbiamo costruire un'alternativa, dobbiamo fare un'agenda. Aspetta e spera che poi si avvera. E' proprio questo il punto. E lei si tradisce da sola. Dobbiamo fare un'agenda, dobbiamo costruire un'alternativa. E aspetta ancora un po'. Aspetta ancora un po' a costruire un'alternativa e un'agenda. Che cosa stai aspettando? Che ti arrivi in sogno o che qualcuno ti consegni la famosa agenda di Draghi? Vi ricordate il capo politico di prima, il tristissimo Letta, che quando gli dicevano, ma che cosa vuoi fare? È l'agenda di Draghi. Dice, ma cos'è sta agenda? Draghi aveva detto, ma io non ho nessuna agenda. Non c'è niente da ridere. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie. Grazie.